La federazione italiana basket ha reso noto il calendario di campionato a due girone ovest per la stagione 2017-2018. Un nuovo inizio che vede la fortitudo agrigento rinnovata nel suo aspetto. Nuovi giocatori, vecchie glorie della squadra, tante aspettative e tante speranze. Si respira un clima sereno dunque in casa fortitudo per la gioia dei tifosi che dovranno aspettare ancora qualche mese. Si inizierà il primo ottobre dove la squadra grigentina al Palamoncada alle ore 18 sfiderà il Latina Basket, mentre dopo una settimana esatta dall'inizio del campionato è prevista la sfida in trasferta contro la Mensana Siena. Per il derby bisognerà aspettare invece un po' di più. La sfida con la palla canestro Trapani è prevista per il 12 dicembre dove la squadra guidata dal Franco Cochiani affronterà i ragazzi seguiti da Ugo Lucarello. C'è molto entusiasmo e molta voglia di fare e lo stesso mister ha voluto sottolineare l'importanza di questa nuova sfida per il basket grigentino. Il nostro girone, commenta Franco Ciani, è equilibrato e non vedo squadre deboli e questo renderà la stagione avvincente ma difficile. I nostri giovani hanno freschezza ed entusiasmo da vendere. La nostra squadra ha bisogno di calore. Il pubblico dovrà essere dalla nostra parte. Sarà, conclude Franco Ciani, un precampionato molto impegnativo. Grazie a tutti.